Due partite importanti contro due formazioni che si trovano agli estremi opposti. Domani il comodi mister Carlo Sabatini affronterà in trasferta la Propatria, penultima in classifica, mentre mercoledì in casa arriverà il Novara che invece occupa i vertici della graduatoria. Due gare che si preannunciano complicate perché si tratta di avversari che scenderanno in campo, entrambi con il coltello tra i denti. I primi per allontanarsi dalla zona retrocessione, i secondi per continuare a sognare la promozione. Il comodi al canto suo dove cercare di fare prestazioni di livello guadagnando più punti possibile a partire già da domani dalla gara contro la Propatria. 19 i convocati dal mister che predispone i suoi con il modulo 4-2-3-1. All'andata al Senigallia era finita 4-3 per i padroni di casa. Ci dobbiamo aspettare una partita molto complicata, d'altronde loro sono comunque una buona squadra, sicuramente davanti lo sono, con quattro elementi molto temibili. Poi hanno preso Pisani, insomma è una squadra comunque forte, secondo me, nonostante i punti in classifica ne abbia persi un po' troppi. Però ripeto, adesso è un altro campionato, il giro di ritorno è un altro campionato, per tanti motivi. E quindi bisognerà fare una prestazione molto, molto importante per portare a casa la partita. Gli azzurri, reduci dalla partita di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal, nella quale hanno guadagnato la finale, si preparano ad affrontare dunque altre due gare importanti nei prossimi quattro giorni. Mercoledì è in programma infatti il turno infrasettimanale. Un periodo intenso, ma Sabatini non ammette scuse e punta a centrare tutti gli obiettivi. Non sarà una giustificazione, questo lo dico a chiare lettere, il fatto di avere così tanti impegni. Non ci deve essere un calo determinato da troppi impegni, non ci deve essere perché siamo attrezzati per farlo, per sostenerlo. Di sicuro vogliamo vincere anche la partita con Lovara, che sia chiaro.